Adesso che sono dentro ho visto tante cose diverse e ho capito perché era sempre difficile essere davanti alla Juve con la Roma. Sono qua, sono molto contento, si lavora tanto, l'ho capito subito e sono a disposizione della squadra per raggiungere grandi obiettivi e di continuare semplicemente a vincere tutti i titoli che hanno vinto già l'anno scorso e fare ancora di più. La società mi ha preso perché pensa che darò una grande mano, quindi io darò il massimo per diventare ancora più forte, per diventare un giocatore importante in questa squadra. Mi farò piccolo, mi integrerò al meglio possibile e sul campo dimostrerò il mio valore. Il numero mio sarà il 5 e come sapete l'anno scorso avevo il 15, qua è preso e teniamo il 5 e il 5 è stato pure un numero che il mio idolo Zidane ha portato nella sua carriera e è un bel numero e sarò orgoglioso e contento di portarlo. Grazie. Grazie.